A costo da record per il comune di Scigli in termini di raccolta differenziata, lo certificano i dati relativi al mese estivo forniti dal lato SRR di Ragusa. Il comune Ibleo supera l'80%, un dato che segna un'ulteriore importante crescita partita fin dal mese di maggio e che prosegue anche al momento. È 80-80% il totale. Primo comune Ibleo in provincia di Ragusa al secondo posto, Monterosso-Almo con una percentuale poco superiore all'80%. Segue ancora Chiara Montegulfi al 77%, Pozzalla al 74%, Giarratana al 73%, Comiso al 70% e infine Vittoria al 67-43%, Santa Croce-Camerina al 62-34%. Dato complessivo 71-56% che sconta però, e non è una novità purtroppo, l'assenza dei dati per Modiche e Ispiche, novità assoluta anche di Raguse e Acate. Peraltro rispetto ai mesi precedenti va segnalato che proprio Modica non ha mai nemmeno avvicinato il 70%, che è ormai quasi uno standard a parte pochissimi comuni nel territorio Ibleo. Qualcosa da rivedere? Forse, ma soprattutto servono i dati. Prosegue l'attività della Polizia Locale di Modica, di concerto con l'assessorata all'ecologia con tolleranza zero nei confronti di chi sporco, scarica e in modo indiscriminato i rifiuti. A questo proposito, la Polizia Locale, sotto le direttive del comandante Rosario Cannizzaro, lavorando sia nello studio che nell'analisi di foto e filmati a disposizione grazie ai sistemi di videosorveglianza, che agendo direttamente sui luoghi durante i servizi di controllo del territorio, ha individuato e multato in fragranza quanti non rispettano le regole. Sono state già elevate circa 200 sanzioni contro i cosiddetti sporcaccioni, sottolinea l'assessore Arramo Samuele Cannizzaro. Si tratta di multe salate che vanno dai 100 ai 400 euro a seconda del danno ambientale provocato e della tipologia di rifiuti scaricati. Un'azione che non fermeremo, che continuerà senza soluzione di continuità con l'obiettivo di fare della nostra città un luogo pulito ed accogliente ancora di più di quanto già non lo sia adesso. Il Consorzio Autostrade Siciliane ha comunicato al sindaco di Scicli Mario Marino che la settimana prossima saranno apposti lungo il tratto autostradale della Siracusa-Gela in prossimità di Modica i cartelli indicanti la destinazione Scicli. Era stato il sindaco nei mesi scorsi a chiedere l'integrazione della segnaletica lungo il tratto Siracusa-Modica. Circa le indicazioni stradali della fascia costiera per chi uscendo da Modica vuole recarsi verso mare, sarà indicata anche San Pieri come località balneare, una notizia utile anche se per quelle più importanti siamo ancora in attesa. Ad esempio l'ultima volta che abbiamo parlato di Siracusa-Gela è stato quando, poco più di due settimane fa, l'onorevole Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, aveva annunciato di essersi mossa affinché i fondi già previsti, 350 milioni, si aggiungessero i 250 milioni necessari a far fronte all'aumento dei prezzi di materiale in mano d'opera. Questi ultimi sarebbero stati garantiti attraverso fondi reperibili da nuovi progetti europei. Una buona notizia quella dello scorso 9 settembre perché attraverso le nuove risorse finanziarie, visto che il progetto è già esecutivo, si potrebbe intanto procedere con esproprio e avvio della gara d'appalto. Purtroppo al momento non si registrano altre novità e il tempo passa. Ci sono oggettivi problemi legati alla sicurezza, che occorre prendere sempre più in considerazione e che è necessario segnalare affinché chi di competenza possa intervenire. È il caso del villaggio Punta Razzi, le cui villette negli ultimi giorni sono state fatte oggetto della sgradita visita dei soliti ignoti, episodi tra l'altro a quanto ci segnalano accaduti in orari cosiddetti normali, addirittura in prima serata. È quanto rileva il presidente dell'Associazione Politico-Culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, che si fa portavoce delle preoccupazioni espresse dai residenti, i quali da qualche tempo chiarisce Chiavola dormono con un occhio solo e tutto questo non è giusto perché non si comprende il motivo per cui una realtà densa e popolata come quella del villaggio in questione che sorge alla periferia di Ragusa, lungo la strada che porta a Santa Croce poco dopo il nuovo ospedale, debba fare i conti con una situazione del genere. Noi sinceramente speriamo che da parte delle forze dell'ordine, sempre molto attenta a vigilare su quello che accade nella nostra città, possa esserci un supplemento di operatività e chiediamo all'amministrazione comunale di attivarsi per cercare di implementare la rete di videosorveglianza affinché anche i delinquenti possano in qualche modo rinunciare alle loro razzie notturne se dissuasi dalla presenza di telecamere. La situazione è molto delicata, ma proprio per questo sono necessari provvedimenti straordinari a tutela della massima sicurezza dei nostri concittadini. La sede CNA di Comiso ha ospitato un importante incontro al fine di chiarire e cercare possibili soluzioni in riferimento ai problemi determinati dalla scadenza del piano regolatore generale della città di Comiso. La settimana scorsa i rappresentanti di un gruppo di imprese presenti insieme con i loro tecnici professionisti hanno manifestato all'organizzazione di categoria una certa preoccupazione dovuta al blocco dei progetti per la scadenza dello strumento urbanistico. Per tale motivo la CNA ha incontrato l'assessore Arramo Tante di Trapani per comunicare il problema che stanno vivendo le diverse attività del comparto costruzioni e fissare con lo stesso un incontro. Il confronto che si è tenuto venerdì scorso nella sede comunale della CNA è stato caratterizzato da intensi momenti di dibattito in cui gli operatori del settore costruzioni, imprese e tecnici hanno manifestato all'amministrazione comunale le proprie preoccupazioni, sottolineando come servono misure urgenti per affrontare la tematica. L'assessore di Trapani nel rassicurare gli operatori presenti ha spiegato come l'amministrazione sollecitata dalla CNA stia già individuando possibili soluzioni che possano sbloccare la questione, venendo così incontro alle legittime richieste del comparto. La CNA nel ribadire quanto sia importante trovare una risposta e nell'apprezzare la disponibilità dell'assessorato continuerà nella propria azione di sollecita affinché si possa trovare un concreto riscontro ad un problema che vede coinvolte numerose attività del comparto costruzioni. Venerdì il CSVE, centro di servizio per il volontariato Etneo, nell'ambito dell'attività di promozione del volontariato celebre in Sicilia il giorno del Don, un evento speciale che racchiude numerose attività in tutta Italia e che in particolare vedrà protagonisti gli studenti di quattro scuole di altrettante province siciliane, Giarre, Catania, Notos, Siracusa, Ragusa e Nicosia-Enna. A Ragusa l'evento si terrà al Vico Umberto I Gagliardi nella sede del liceo classico. Promossa dal centro servizio per il volontariato Etneo, la giornata ha come obiettivo quello di sensibilizzare le nuove generazioni sull'impegno civico e sulla solidarietà, coinvolgendo attivamente sia i giovani che i volontari locali. Nel corso dell'evento gli studenti avranno l'opportunità di confrontarsi con volontari esperti, raccontare le loro esperienze di dono e riflettere insieme sul ruolo che ognuno può avere nel contribuire al bene comune. Nei quattro istituti siciliani la giornata sarà aperta dai villaggi del dono. Gli studenti accompagnati dai volontari avranno così la possibilità di conoscere le tante attività su cui ruota l'impegno degli stessi e ascoltare testimonianze di impegno e cultura del dono che spaziano dal volontariato ambientale alla protezione civile, dalla donazione di sangue, organi e tessuti fino al servizio civile. Una stagione teatrale di altissimo livello che sarà aperta come tradizione dalla conferenza spettacolo in programma il 19 e 20 ottobre. La compagnia Godot di Ragusa si prepara a inaugurare la diciannovesima edizione della rassegna Palchi Diversi. Dopo i grandi successi della stagione estiva i bravissimi attori della compagnia ragusana sono pronti a risalire sul palco. Tante le novità per una stagione che si annuncia ricca di appuntamenti. Noi abbiamo sempre un occhio particolare per i ragazzi e per i bambini, ci piace moltissimo lavorare per loro e con loro perché spesso alcuni nostri allievi, anche più piccoli, sono presenti anche in alcune nostre produzioni, anche particolarmente complesse. L'abbiamo visto quest'estate, in Macbeth e in Lisistrat hanno lavorato alcuni di loro. Quindi noi cominceremo intanto con qualcosa che non è strettamente palchi diversi, però giunge alla terza edizione ed è un'iniziativa che ci ha dato delle belle soddisfazioni e quindi per questo abbiamo voluto riproporla. Sono le domeniche di ottobre il laboratorio spettacolo per bambini e per ragazzi, che vedete che ce l'ho proprio dietro. Quest'anno lo realizziamo grazie al contributo del Libero Consorzio dei Comuni, nella persona del commissario Patrizia Valenti e del direttore generale Nitto Rosso, e ringraziamo perché grazie a loro i nostri ragazzi potranno portare ancora il divertimento del teatro attraverso piccole messe in scena, nuovi personaggi, ma anche proprio gli esercizi di laboratorio. Vi frequentate, vedete la nostra rassegna e vi aspettiamo numerosi. Il fil rouge diciamo che può essere in una parola il potere, il potere che schiaccia, il potere declinato in tutti i suoi aspetti, la burocrazia, la politica. Kafka lo omaggiamo, ci sono tre appuntamenti importanti di nuove produzioni e sono tre autori straordinari, importanti. Uno è Kafka di cui abbiamo parlato e lo omaggeremo a cavallo tra novembre e dicembre, e cioè metteremo in scena una riduzione del suo romanzo, Il castello di Kafka. è una storia straordinaria che parla di potere, che parla di burocrazia che incombe sull'uomo e quindi quest'uomo che è rivoluzionario, che contro, come una lotta contro i mulini a vento, va avanti per il suo percorso e poi ha un epilogo tragicomico. Poi continuiamo a cavallo tra invece gennaio e febbraio con un altro straordinario appuntamento, una nuova produzione, che è un autore che non abbiamo mai incontrato nel nostro percorso e che è Strindberg. Insieme a Ibsen, l'inventore del teatro moderno, uno dei padri del teatro moderno, di Strindberg affrontiamo Danza di Morte, che noi decliniamo come Danza Macabra. è una storia straordinaria, una metafora sul rapporto di coppia, ma che poi si allarga a un discorso di critica sulla società. E poi invece torniamo alla commedia brillante, ritorniamo a Feidò dopo diversi anni e l'abbiamo affrontato nel 2019 con Il matrimonio di Barillon, forse una delle commedie meno affrontate nel repertorio della drammaturgia comica. invece ritorniamo con Feidò, invece con un testo che forse è il cavallo di battaglia di molti protagonisti del teatro, e cioè Il sarto, sarto per signora. È una commedia brillante con un tema ricorrente, quello del tradimento, e che parla della società di un tempo, ma anche parla della società di adesso.